Ed eccoci nel tempo di avvento, un tempo che la Chiesa ci dona all'inizio di ogni nuovo anno liturgico, un tempo insieme alla Quaresima che ci aiuta a rinascere. E noi in questo tempo, cosiddetto forte, ci facciamo accompagnare dal pastore della diocesi di Manfredonia, via San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, al quale subito il mio, ma anche il vostro sicuramente, è benvenuto. Grazie e grazie a tutti quelli che ascoltano e ci vedono per tv. Grazie. La sua presenza è forte come questo tempo che ci accingiamo a vivere, anzi buon anno come si suol dire. Dovremmo darci il buon anno liturgico perché per noi inizia oggi l'anno liturgico con la prima domenica di avvento. Personalmente è il tempo che mi piace di più, sarà anche per un motivo egoistico, perché sono nato in avvento, quindi è il periodo, forse c'è qualche cosa del genere. Ma dal punto di vista della vita, perché credo che anche se è il più breve, l'avvento, il Natale, sono concentrate in poche settimane, poco più di tre, insomma, è quello che dice meglio la nostra vita come credenti, come discepoli. Siamo in cammino, siamo in viaggio verso una meta, verso un'attesa e quindi è quello che interpreta meglio dei tempi cosiddetti forti, quella che è la vita dell'uomo, la vita del credente. E in queste quattro domeniche in cui saremo insieme saremo in compagnia di quattro protagonisti. Sì, li abbiamo un po' scelti in base alle letture del giorno e in base al tempo in sé. Come protagonista, il primo è il profeta Isaia. Il primo è il profeta Isaia. Ci saranno un po' di provocazioni, ecco, mi metto un po' dall'altra parte in questo momento. Isaia lo possiamo vedere, se lo guardassimo adesso faccia a faccia, un po' come un giornalista, un po' come un seccatore. Ne abbiamo parlato anche prima a fuori onda. Sì, mi sono piaciute queste due immagini. Quella del giornalista, ossia quello che entra nel giorno, nel giorno, nel qui ed ora. Ecco, la cronaca che vede il momento, i fatti che accadono. Però come profeta poi da giornalista diventa un seccatore perché vuole entrare dentro questo giorno, capirlo a fondo e far nascere dal giorno quello che è, come dire, l'immagine, la verità, quello che il giorno contiene. E in questo modo diventa profeta. Il giorno si apre al domani e quindi al futuro, a questo futuro che ci viene incontro e dove troviamo Dio. Quindi è bello vedere il profeta Isaia come un giornalista, una persona che entra nella giornata, che entra nel tucur della cronaca, degli avvenimenti, anche volte banali, apparentemente di tutti i giorni, ma che li sa smontare e trovarci dentro una presenza ed un messaggio. Che è la presenza, il messaggio di un Dio che sta venendo, non che è già lì, che sì, in qualche modo c'è, ma soprattutto sta venendo e sta costruendo. Se ci pensiamo, il suo periodo è più o meno otto secoli prima della nascita di Gesù. Il profeta Isaia, insomma, i biblisti ce ne parlano in tanti modi, ecco, senza dubbio perlomeno sono sette secoli prima. È il libro più esteso dell'Antico Testamento e di tutta la Bibbia e, secondo i biblisti, non è di una sola mano. Insomma, si vedono perlomeno tre personaggi diversi. Si parla di primo, secondo e terzo Isaia e quindi un percorso di alcuni secoli. L'Isaia che ci accompagna durante l'Avvento, quindi quello che abbiamo definito come giornalista e seccatore, è il primo, ossia sono testi scelti dal primo Isaia, quindi dalla parte senza dubbio più antica. E anche quello più, direi, più gioioso, più giocoso, ecco, e lo vedremo soprattutto nella terza domenica di Avvento, che è quella chiamata Gaudete, quello della gioia. Il secondo e il terzo Isaia diventano già più, direi, non dico pessimisti, ma entrano più nella storia umana, nella storia che pesa, della sofferenza e poi l'Isaia più quaresimale dei canti del servo di Yahweh, per poi arrivare all'Isaia, diciamo, pasquale, insomma, del futuro, veramente, del paradiso, del compimento della profezia in sé. Ecco, questo Isaia dell'Avvento io lo definirei il più giocoso e il più gioioso. E nella terza domenica ci si ritrova anche, insomma, i sacerdoti vestiti di un colore diverso, di rosa. Non mi piace granché, soprattutto non mi piace indossarlo, però il significato è proprio quello di dire questo aspetto della gioia. Dopotutto il messaggio che viene proposto e il futuro che ci aspetta è un messaggio di gioia, un messaggio di felicità, non è un messaggio di tristezza. Nessuno attenderebbe qualche cosa di negativo, cercherebbe di evitarlo, correrebbe in una direzione opposta. E proprio perché si aspetta qualche cosa di bello, di gioioso, di felice, che riempie il cuore che io aspetto e attendo, diversamente non avrebbe senso, dovrei scappare. Ecco, Isaia ci dice invece, no, attendi perché sta arrivando il più bello. Ed è strana anche la sua vocazione, la sua chiamata. Vive in un'epoca drammatica, piena di guerre, di vicissitudini negative. Dice il brutto, ma poi promette anche il bello. Il profeta è tale se non è di sventura. Ossia, a me sembra che tutta la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento, ma anche alcuni giudizi di Gesù sui profeti dell'Antico Testamento, dica non sono profeti coloro che annunciano la sventura. Sono gente che si vuole accaparrare magari l'interesse dell'uomo, del popolo, e lo vuole in qualche modo condizionare. Il profeta, se parla di Dio, deve parlare di una cosa bella. Nella sventura trova motivi comunque positivi per reagire alla sventura e camminare con decisioni in avanti, senza paura. Ha tanto coraggio, coraggio da vendere, diremmo oggi, della parola, della verità, ma anche del silenzio. È un altro degli atteggiamenti dei cosiddetti due tempi forti preparatori, il silenzio. Direi l'avvento e poi a maggior ragione la quaresima. Però il silenzio del profeta non è il mutismo. Ecco, dovremmo distinguere ciò che è rimanere muti da ciò che è rimanere in silenzio. Io direi il silenzio come l'attesa, il preparare lo spazio, il fare un'atmosfera attorno in grado di ascoltare. È un silenzio che è prodromo, che precede, che è condizione dell'ascolto. Se non fosse così sarebbe puro mutismo e servirebbe a nulla. Diciamo che la visione cristiana sul silenzio è proprio questa, la differenza rispetto ad altri punti di vista. O al vuoto, io penso anche a certe religioni, soprattutto dell'estremo oriente, al buddismo, come interpreta il silenzio. È un silenzio vuoto e arrivare tra virgolette al nulla, a questo nirvana, a questo vuoto da cui secondo loro tutto sarebbe partito. Per noi invece è un fare spazio ad una voce, ad una parola che sta arrivando, che è la parola di Dio, e il prepararci ad un dialogo. A me è piaciuto e mi ha colpito quando, studiando la Sacra Scrittura nell'ebraico, la prima lettera dell'alfabeto con cui inizia la Sacra Scrittura, nel libro della Genesi, è una lettera muta, perché l'ebraico, anche come l'italiano, l'acca non si pronuncia, è una lettera muta. Ecco, che cosa significa? Che tutta la Bibbia inizia con un segno muto, che è mutismo, no. Significa che è questo, preparati, ecco, fai silenzio perché sta arrivando una parola. Ecco, i profeti ed Isaia in particolare, ecco, questo ce l'avevano di sicuro molto chiaro, che avevano bisogno di fare questo momento di silenzio per poter accogliere la parola e diventarne voce. Lo vedremo poi magari nel personaggio ultimo profeta, che è Giovanni. Il tempo è volato, si pensava, insomma, durasse meno questo momento. In realtà, le faccio l'ultima domanda, Isaia si è fidato di Dio, inevitabile, ma Dio perché si è fidato di Isaia, prima di chiamarlo? Ma, non so se Dio si è fidato di Isaia. Dio ha scommesso sull'uomo e sulla donna. Quindi, la fiducia di Dio precede la fiducia di qualsiasi credente in Dio o di qualsiasi che crede di non crede. Ossia, la fiducia di Dio è prodroma alla realtà. Ecco, se Dio non si fidava non avrebbe creato il mondo e soprattutto non avrebbe creato persone a sua immagine e somiglianza. Come è scritto dietro di noi, adesso non so se è a sua somiglianza, che quindi richiama una responsabilità oltre che un'immagine. Insomma, perché quando vogliamo dire qual è l'immagine di Dio, l'immagine di Dio è il volto dei miei fratelli e delle mie sorelle. Io, cristianamente, altre non ne trovo. Se poi sono fratelli e sorelle in difficoltà, poveri, a disagio, a maggior ragione sono immagine di Dio, perché lui stesso ha detto che è in quelli che mi riconosco. Questo è un valore aggiunto anche per il nostro programma che abbiamo intitolato così, a sua somiglianza. Grazie padre Franco, ci ritroviamo. Buona prima domenica di avvento e buon inizio da un po' di silenzio ma per poter ascoltare. Grazie. 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 Grazie.